Hello guys, I am Phil, ma qualcuno mi conosce anche come Virex e benvenuti in questo nuovissimo video Scusatemi se oggi abbiamo la voce un po' nasale ma in questi giorni non sono stato troppo bene Per fortuna non è covid, abbiamo fatto il tampone, era negativo, ci siamo fatti giusto deflorare le narici ma nulla di grave Quindi speriamo che questo sound ci accompagni solo per questo video Ma detto questo direi di non perderci in chiacchiere come il nostro solito e passare direttamente al contenuto del video Ovvero, come avrete letto dal titolo, la recensione di Alma, in questo caso la Box Collection Cosa posso dirvi su questo Alma? Parliamo di un manga seinen scritto e disegnato da Shinji Mito E che era stato tra l'altro annunciato ai Luka Comics and Games di quest'anno E nel video al riguardo avevo detto effettivamente che quest'opera mi incuriosiva e che la attendevo Purtroppo però non sembrerebbe aver rispettato le aspettative, ma tempo al tempo ci arriviamo Cosa possiamo dire di Alma? Parliamo di un'opera scritta e pubblicata in Giappone tra il 2019 e il 2020 Che esce in Italia grazie all'opera editoriale DJ Pop a partire dal 2 marzo nel Box Mentre a partire dal 16 marzo potrete trovarlo singolarmente quindi dal primo volume e poi a seguire anche gli altri volumi Quindi se preferite una spesa più cadenzata rispetto a una spesa unica di circa 26 euro Anzi senza circa di 26 euro precisi Voi sapete che io ho un fetish per i box quindi tutto ciò che la G-Pop fa uscire sotto forma di box io la devo comprare Altrimenti non sto bene con me stesso Parliamo comunque di una storia in 4 volumi o per essere più specifici in 3 volumi e mezzo Infatti i primi 3 volumi e mezzo sono di storia Dalla metà o poco più dell'ultimo volume invece troviamo dei contenuti extra che vanno ad approfondire Alcuni personaggi, un po' del world building e poi proprio nelle ultimissime pagine abbiamo invece delle bellissime illustrazioni a colori Ma di cosa parla questo album? Quindi cosa ci racconta questa storia? Ci troviamo in un mondo distopico dove forti sembrano le influenze di altre opere Prime fra tutti, Blame il mio adoratissimo Blame dove uomo e macchina sono in costante conflitto Le macchine infatti sembrerebbero aver sviluppato una sorta di autocoscienza Quindi un modo per svincolarsi dal protocollo di controllo degli umani E questo in parte mi ha ricordato anche un'altra opera sempre a stampo cyberpunk Ovvero Ghost in the Shell dove il concetto di anima contenuto nel ghost e lo sviluppo dell'individualismo delle macchine Sono concetti che la fanno da padrone in quest'opera Ma tornando ad Alma in questo equilibrio precario fondamentale sarà invece la figura di Rey Un ragazzo umano che funge però da anello di congiunzione tra le due razze E che dopo la scoperta di una verità particolarmente profonda Sarà costretto a prendere una difficile decisione non solo per se stesso Ma anche per quello che sarà il destino dell'umanità Per quanto riguarda i personaggi invece come dicemmo già ai tempi con la recensione di Karma of Purgatory Quando hai pochi capitoli per sviluppare la tua storia e diversi personaggi da presentare La caratterizzazione è quella che maggiormente ne soffre La sofferenza in questo caso però la si sente anche e soprattutto nel protagonista Poiché se in un primo volume abbiamo una delineazione piuttosto chiara della semplicità Dell'ingenuità di questo ragazzo che fondamentalmente nulla sa del mondo Con l'evoluzione della storia la sua evoluzione, la sua maturazione sembra frammentaria, altalenante Abbiamo delle situazioni in cui sembra aver acquisito una maturità tale da permettergli di prendere ardue decisioni In altre invece sembra essere tornato il bambino spaisato, impaurito, confuso Che di base non è sbagliato, dato comunque quello che è il background della storia Il problema è che questo susseguirsi di comportamenti non sembrerebbe avere coerenza Non sembrerebbe avere basi su cui fondarsi Anche alcuni suoi discorsi, alcuni suoi pensieri Che presi a sé stanti sono anche dei bei pensieri, sono molto profondi Nel contesto non hanno nulla a che vedere con quello che effettivamente noi abbiamo scoperto su di lui fino a quel punto O comunque non c'è correlazione con quello che dice tra quello che veniva prima e quello che invece viene dopo Un punto invece estremamente a favore, anzi forse quello che è il vero punto di forza di quest'opera I disegni, i disegni infatti sono puliti, accattivanti, espressivi Insomma sono per dirla in maniera semplice e breve veramente ma veramente molto belli Passando invece a quelle che sono le nostre consuete impressioni e opinioni di fine video Voglio fare un po' il poeta e paragonare attraverso una metafora questo Alma ad una giostra In particolar modo alle montagne russe Perché effettivamente quest'opera è tutto un sali e scendi di qualità Nel senso, fin dalle prime battute questo Alma vuole presentarsi come un'opera che è in grado di stupire Che mette in atto tutta una serie di finezze tecniche che però nella maggior parte dei casi tendono a fallire Sembra quasi che l'autore avesse in mente un'opera molto più grande, molto più complessa Ma che per una serie di eventi quali fra tutti il poco tempo come lui stesso conferma nel post credit Quindi proprio nelle ultime pagine del volume 4 Si è stato costretto quindi a condensare il tutto in 32 capitoli Ergo la confusione la fa da padrone Andando infatti a analizzare quello che non mi è piaciuto e quello che mi ha lasciato l'amaro in bocca Perché effettivamente questa è un'opera che avrebbe potuto dare molto ma molto di più La cosa che più di tutte mi ha reso difficoltosa la lettura è stata la regia Che io vorrei descrivere con due parole, confusa e dispersiva A partire dal primo capitolo infatti, quello che si denota è che l'impostazione che si vuole dare alla regia È più da opera animata che da opera cartacea, quindi da manga Il problema qual è? Che quando non hai il doppiaggio e quindi non puoi far capire quale dei tuoi personaggi sta parlando Oppure non hai con i colori la possibilità di opacizzare le immagini e rendere l'idea di un flashback Che cosa si ottiene? Confusione E quindi anche in questo caso, cambi di scena non contestualizzate Scene del passato che si sovrappongono a quelle del presente e viceversa senza però renderlo in maniera chiara Oppure dialoghi che fondamentalmente non hanno cognizione di causa Né con quello che c'è stato prima, né tantomeno con quello che verrà dopo E quello che mi dispiace è che invece nelle parti in cui la narrazione è più lineare La lettura è piacevole, è bella Il ritmo, sostenuto anche da un disegno stupefacente, è incalzante E la voglia di continuare c'è, si percepisce Il problema qual è? È che come in una montagna russa, a questa linearità Segue un periodo di confusione di qualche pagina Che in maniera delicata, scompagina, in maniera un po' più colorita Manda definitivamente a puttane il tutto E ti fa perdere veramente la voglia di andare avanti Come dicevo prima, infatti, alcune scene non sembrano nemmeno aver ragione di esistere Nel senso che risultano essere di troppo Comunque sembrerebbero mancanti di quella che è un'identità precisa E questo è un qualcosa che a me dispiace tantissimo Perché prese a sé stanti sono delle situazioni che esprimono una profondità Un carico emotivo che possono fare invidia a tantissime altre opere C'è una scena dove Ray stringe amicizia con un soldato Che è bellissima Ma non c'entra un cazzo con quello che succede prima e con quello che succede dopo C'è una scena finale dove Ray parla con un tizio E fa un discorso di una bellezza incredibile Ma a livello contestuale sembra questa conversazione Salve, mi scusi, mi sa dire che ore sono? Sì Cioè, questo è quello che mi fa arrabbiare Perché tutti quei riferimenti, tutte quelle cose che hanno una bellezza e una capacità di lasciare il segno incredibile Per non fare spoiler chi avrà modo di leggere quest'opera Fate attenzione a quando si parla di ali, volo, anima e cervello Immerse in questa casualità che probabilmente è stata anche fatta per cercare di dare più caratterizzazione E più profondità all'opera stessa Anche in questo caso portano ad un unico risultato Ovvero confusione Passiamo quindi a spendere due parole anche sul finale Che per l'ennesima volta dimostra di essere l'ombra di quello che in realtà sarebbe dovuto essere il risultato finale Nel senso che noi abbiamo due epiloghi Il primo, molto classico, alla lieto fine, poco approfondito Come del resto un po' tutta la storia in generale Ma che lì per lì ti fa pensare Ci sta, lo accetto Poi abbiamo un secondo epilogo Che dovrebbe un po' ricordare quelle che sono le scene post-credit dei film Marvel Quindi qualcosa di grosso che vuole stupire per l'ennesima volta E che vede seguire due personaggi Che durante la storia principale abbiamo visto una volta Non sto scherzando, una volta Che sono alla ricerca di qualcosa E che sembrerebbe lasciare aperta la possibilità di un Alma 2 Quando in realtà ci sarebbe da approfondire E fare uno spin-off o comunque un qualcosa che approfondisca Alma stesso Confermando per l'ennesima volta Quindi lo ripeto, perdonatemi, sono ripetitivo Con questo manga, quest'opera doveva essere molto di più Ma il più delle volte non si raggiunge lo scopo Volendo fare anche un altro paragone Perché oggi ci sentiamo un po' leopardi Questo Alma mi ha ricordato tanto a tema videoludico Cyberpunk 2077 Quindi un progetto che doveva rivoluzionare Che doveva stupire Ma che poi non ha atteso le aspettative Quindi sicuramente parliamo di un'opera Che, se si capisce bene, non mi è piaciuta Ma di contro non mi sento nemmeno di dire Che sia un'opera completamente da buttare Perché in realtà Tra il disegno e alcune scelte tecniche del contenuto c'è E non mi sento nemmeno di affossare un'opera Dove l'autore stesso ha ribadito come in realtà abbia lavorato da solo Questo è importante E con delle tempistiche disumane E questo in realtà è un motivo in più che lascia la mare in bocca Perché date alcune premesse, date alcune scelte Date alcune capacità Che comunque emergono da questo alma Ci viene da pensare O perlomeno mi viene da pensare Cosa sarebbe potuto essere Con più tempo Con più organizzazione Con più identità Questo alma E questa purtroppo è una domanda Che rimarrà lì per sempre Perché non c'è modo di tornare indietro Anzi, l'unica cosa che posso fare È cercare di dare un voto Che sia un piuttosto oggettivo E quindi valuta non solo Purtroppo la confusione Ma anche Quelle che sono alcune scelte Azzeccate Seppur poche di questo alma Al quale quindi do un voto di 6 Che Per un disegno che mi ha particolarmente impressionato Arrivo al 6.3 Ma detto questo Signore e signori Il video finisce qui Io spero come sempre Che vi sia piaciuto Che vi abbia aiutato A farvi un'idea Su questo alma Quindi se vi va lasciatemi un like Un commentino Dicendomi se l'avete letto Se questo manga vi incuriosiva E ora ci avete ripensato Oppure se avete confermato Il vostro interesse Insomma Fatemi sapere come sempre Qual è il vostro pensiero Se vi va come sempre Condividete il video Con i vostri amici E soprattutto Se non siete iscritti al canale Iscrivetevi Perché mi sarebbe davvero Di grandissimo Grandissimo aiuto Inoltre vi ricordo Che in descrizione Ci sono tutta una serie Di link utili Per tutte quelle attività Che avvengono anche al di fuori Di youtube Quindi instagram Telegram Discord E Nulla Per questo video Abbiamo finito Ripeto Spero che vi sia piaciuto E Fino a un prossimo video Passo e chiudo Anzi E con questo Braccio Ad Bussai E conglu E conglu